Il sogno di diventare agente immobiliare e gli ostacoli che anche in questo settore sono stati causati dalla pandemia. La Camera di Commercio di Firenze riparte con gli esami di abilitazione per i mediatori, anche se siamo in zona rossa, e lo fa online. Le richieste sono state e sono tuttora moltissime e quindi abbiamo provato a studiare un meccanismo che con le stesse garanzie, con le stesse tutele, con le stesse norme giuridiche, anche di conservazione documentale, perché questo è fondamentale, dicevo prima, è un esame abilitante, quindi non si può improvvisare. Abbiamo provato a testare questa piattaforma. Un successo il primo approccio con la piattaforma per gli esami universitari è riadattata appositamente, un sistema che vede Firenze fare da apripista in tutta Italia. Devo dire che è un percorso che sta suscitando interesse anche dalle altre Camere d'Italia, che ci stanno appunto chiedendo come abbiamo fatto, qual è la struttura informatica che abbiamo messo in piedi. Quindi noi ci auguriamo non solo che sia valido per Firenze, ma che sia anche un sistema esportabile proprio a livello di sistema camerale.